Allora, siamo arrivati già mercoledì e sabato si ricomincia a giocare, quindi siamo tutti già in tensione. Non lo so, diciamoci eravamo abituati a non giocare, eravamo più tranquilli, più sereni. Invece adesso dobbiamo rientrare in mentalità partita. Sette partite per divertirci spensieratamente, per tentare di giocare un bel calcio e tentare di fare anche una bella figura il più possibile in questo campionato che per la prima volta mi vede in Serie B. Quindi sperando di avere tante altre volte in Serie B, c'è almeno una insomma, perché poi sinceramente penserei a qualcosa di più... No, non lo dico, dai, perché poi voi tutti vi fate delle idee. Comunque più tardi vi dico anche come vanno avanti tutti i lavori per lo stadio, per la clinica e per il centro sportivo. Volevo ringraziare il presidente Tesei o la presidentessa Tesei, come preferisce, per l'appuntamento che ha fissato a me come presidente della Ternana per martedì, mi sembra, 12 aprile. Sarà un momento di incontro estremamente piacevole, a me molto gradito, avremo modo di conoscerci e avremo modo di parlare anche del progetto della Ternana per quanto riguarda lo stadio e per quanto riguarda la clinica. Sarà un appuntamento quindi dove parleremo, ci confronteremo e credo che sarà un appuntamento interessante perché parleremo di sviluppo, di sviluppo della regione. Ma ringrazio la Tesei per aver voluto dedicare del tempo alla Ternana, quindi alla città di Terni e a tutti noi. Grazie ancora, presidente.